E dunque, ufficiale, Martina Lenzini torna alla Juventus ed è un bel ritorno, per chi non la conoscesse, terzino destro, esterno destro basso come si dice nella realtà, visto che terzino ruolo non si dice terzino, si dice esterno destro, difensore esterno basso e gioca a destra, e ha giocato le ultime tre stagioni con il Sassuolo, e con Sassuolo ha giocato delle grandi partite, è una giocatrice che è cresciuta tantissimo, giocatrice che nel primo anno di Juventus ha conquistato il tricolore, vincendo il primo storico scudetto delle Juventus Women con nove presenze, e poi, come ho detto prima, invece ha cominciato ad andare in giro in prestito, poi ricordo che Martina Lenzini prima di essere alla Juve era al Brescia, ha già comunque vinto un campionato anche a Brescia, in realtà lei ha vinto già tutto in Italia, proprio a Brescia ha vinto anche Coppa Italia e Supercoppa, con le Juventus Women ha vinto un campionato e poi è stata data in prestito al Sassuolo appunto. classe 98, quindi comunque ancora molto molto giovane, il sito della Juve riporta che giocherà con la maglia numero 71, servivano terzini, non per qualcosa, ma Lenzini soprattutto è molto duttile e può giocare da ambedue parti, e poi ci serviva un ricambio perché ci siamo trovati quest'anno solo con Irinen, Lundorf e Boatin, e spesso Irinen ha dovuto anche giocare centrale di difesa perché purtroppo probabilmente ce ne sono stati e come. Un acquisto importante, un ritorno importante che dimostra però anche la grandezza del progetto Juve, perché è il progetto Juve che vince qua, io do in prestito una ragazza tra le mie 400 ragazze che ho in giro e mi arriva una signora giocatrice indietro, assolutamente, giocatrice sensazionale e credo che potrà farsi valere anche a Torino, credo che ovviamente partirà, come posso dire, sono convinto che partirà da riserva, non giocherà tutte le partite, ma penso che farà molto molto bene perché veramente sono dell'idea che sia una buonissima giocatrice di talento e che conosce già l'ambiente, questo non è assolutamente una cosa da poco, insomma, una cosa da poco, quindi, quindi, bentornata Martina Lenzini e aspettiamoci altri colpi, manca ancora un secondo portiere, oggi si è fatto il nome di aprile dell'Inter molto vicino alla Juve, adesso stiamo a vedere, insomma, vediamo, io sono convinto che la Juve zitta zitta si stia muovendo molto bene anche con le Juventus Women, e piano piano la squadra sarà completa, insomma, io credo comunque che sicuramente, sicuramente arriveremo alla partita di Champions con la squadra già bella che fatta, ecco, di questo sono sicuro. Ragazzi, a me non resta che salutarvi, bentornati a Martina Lenzini e fino al fine Forza Ventos Women.